Sempre in diretta qui dal Papiglio, questa sera veramente eccezionale, festeggiamo i 130 anni dell'automobile e stiamo aspettando un personaggio di eccezione, niente meno che Eva Enger. Vicino a me vedete le anime del Papiglio, e cioè loro che animano la console da quando il Papiglio è aperto. I due Davide, perché vicino a me c'è Davide. Mazzara, ciao Spezia TV, ciao a tutti. E Davide. Davide V, buonasera, benvenuti, ciao a tutti. Allora, loro sono qui perché volevano ricordare ovviamente a Spezia TV, ma anche a tutta Spezia, un appuntamento d'eccezione, e cioè? Sì, vogliamo ricordare che il 26 di febbraio il Papiglio Club festeggia due anni di storia, quindi noi che comunque siamo partiti dall'inizio ci teniamo molto a ricordare questa data per festeggiare alla grande questo avvenimento. E stiamo veramente festeggiando alla grande tutte queste serate, sia i venerdì over, che i sabato, che i martedì. Insomma, Davide, che cosa dici tu di queste serate folli? Ma noi continuiamo ad animare le serate qui alla Spezia, cerchiamo di mettere pezzi magari giusti e cerchiamo comunque di far divertire la gente in maniera sana e giusta, via. Qui la Spezia anche a livello musicale sta crescendo, anche perché sto cercando, comunque stiamo cercando io e Davide di far divertire la gente appunto a livello musicale un pochino più in una maniera raffinata. Quindi, insomma, noi ce la mettiamo tutta. Bene, quindi Davide, prepariamoci alla grande per questo compleanno. Assolutamente, assolutamente. Sarà un grande avvenimento, come abbiamo detto, sicuramente Cristian ci sarà, ci delizierà con grandi sorprese. E noi, come sempre, faremo un grande spettacolo, ecco. Quindi, Spezia TV, ricordati di noi il 26 febbraio qui al Papiglio Club. Ciao a tutti. Grazie, ciao, a dopo.